al gesuiti di pescara scende in campo la sfida zero stile dl pescara united una sfida che inizia a segnare i destini della stagione la dl deve riscattare la sconfitta con la ponzo ma deve consacrare un campionato straordinario all'inserimento dei primi quattro posti da zero stile deve assolutamente cercare di reagire dalla sua più grande crisi dall'inizio della sua storia non vince probabilmente dal novembre 2018 oltre 20 turni una vera e propria maledizione e infatti la maledizione continua nei primi minuti un errore a centrocampo il pallone largo per tavano che a tu per tu con di clemente non sbaglia 1 a 0 il 22 sarà ancora protagonista qualche minuto più tardi perché su un bel assist di soncini ancora tavano batte con un bel tiro a giro il estremo difensore paolo di clemente 2 a 0 e notte fonda per gli uomini di de luca che dovevano assolutamente trovare una reazione ma qualcosa cambia esattamente al 10 minuti dal termine del primo tempo una azione un po' calciare in porta parapiglia di mani forse un braccio di troppo la nostra posizione non ci aiuta il direttore di gara assegna il calcio di rigore per la zero stile dal dischietto va lo stesso chiacchiaretta pesantissimo comunque la responsabilità soprattutto per il carico diciamo chiamiamola disfortuna ma chiacchiaretta freddissimo batte già marino è 1 a 2 partita che si raccende si va fare la partita ma forse un po' stanca e forse un po' alta al 10 minuto il secondo tempo entra vincenzo vespa lasciato in panchina per guai fisici fino a quel momento e sarà un cambio probabilmente determinante esattamente 15 minuti dopo si riscatta dei amici dell'errore sul primo tempo su appunto sul taglio errato su tavano va sul fondo mette dentro un pallone sulla corsa di vincenzo vespa che tu per tu con giammarino non sbaglia è 2 a 2 la zero stile ci crede straordinaria la scelta di deluga di spostare di sacrificare morretti su tavano che da quel momento sparirà dalla partita essendo stato protagonista per i primi 20 minuti e poi nulla più la zero stile ci crede ma ovviamente la dl vuole vincere e allora ci vuole ancora un'altra giocata di vincenzo vespa esattamente a 5 minuti dal termine un pallone forse gestito con sufficienza dai centrali di difesa dell'adl giammarino si ritrova praticamente all'improvviso arrivare vincenzo vespa pallonetto nonostante non la sottolineare a statura dell'estremo difensore dell'adl rimane uno dei partiti più forti dell'over 40 arriva sul pallone ma lo stesso vincenzo vespa riagguanta il pallone si gira e fa 3 a 2 remuntata e la zero stile è panchina che salta in piedi la zero stile adesso ci crede bisogna ammazzare soltanto l'ultimo dei grandi fantasmi l'ennesimo gol all'ultimo minuto che la formazione di deluga ha subito per ben 8 volte in questa stagione andando a perdere spesso anzi sempre punti preziosi ma questa volta non viene ci prova deluga direttamente sul calcio d'angolo la palla va in porta arrivano i guantoni di di paolo di clemente arriva il tipice pisco arriva la fine di una crisi di oltre 20 partite non è sicuramente un passo imponente verso la salvezza ma è comunque un passo è la fine di un momento è forse l'inizio di qualcosa settimana prossima arriva il giama uno scontro direttissimo la zero stile però sembra esserci vabbè campo ostico difficile si sa giortona niente comunque partita iniziata prima mezz'ora una bella partita intensa parte di tutte e due le squadre sono state occasioni entrambe le parti loro sono andati vicino al gol un paio di volte così come anche noi e tutte le volte entrambi i portieri sono stati chiamati in causa e hanno risposto bene poi c'è stato un episodio al nostro sfavore su un calcio di punizione loro sono passati in vantaggio da lì hanno preso in mano la partita noi siamo scesi mentalmente e niente loro dopo 5 minuti hanno raddoppiato e la partita è diventata a senso unico secondo tempo è ricominciato con subito il loro terzo gol su uno svarione nostro loro da fuori aria hanno fatto un gran gol sotto l'incrocio poi c'è stato un penalty parato dal portiere nostro e niente noi tanta tanta voglia ma mentalmente siamo scesi avendo anche solo due cambi quindi non siamo riusciti a riprendere questa partita quindi l'ortona vince meritatamente però noi non molliamo per lottare per il quarto posto anche perché i risultati di ieri sera ci sono andati a favore l'unica cosa positiva della serata sono stati risultati delle altre squadre quindi non si molla niente e sabato si riparte più vogliosi che mai per questo quarto posto allora ieri siamo tornati alla vittoria dopo un periodo buio abbiamo ritrovato il gol di Cupido su punizione De Luca in gran forma adesso vogliamo lottare almeno ad arrivare al quarto posto per il resto niente vorrei fare i complimenti a De Dominicis è il nostro numero 12 che sta crescendo partita per partita crediamo in lui vogliamo puntare anche al terzo posto se è possibile dunque ho reso conto sulla partita di ieri contro l'Ecogas abbiamo fatto una buona partita secondo me l'approccio è stato ottimo siamo entrati in campo con la giusta mentalità contro una squadra a livello fisico e a livello agonistico molto forte che la metteva morto sul piano della fisicità abbiamo tentato di giocare a pallone contro una squadra che invece ribatteva morto con lanci lunghi il primo tempo è stata una partita molto equilibrata chiusa giustamente sullo 0-0 avevamo un po' di difficoltà a concludere in porta perché l'Ecogas, ripeto, sotto l'aspetto fisico pressava molto poi il secondo tempo abbiamo cambiato modulo mentre il primo tempo abbiamo fatto un 4-4-2 classico il secondo tempo abbiamo cambiato modulo abbiamo fatto un 4-3-3 abbiamo allargato gli spazi perché non riusciamo il primo tempo a dare profondità e a non dare punti di riferimento all'avversario e diciamo che è stata una buona mossa perché allargando gli spazi abbiamo cominciato a creare delle occasioni abbiamo avuto il pallino della partita anche se poi il gol è stato un infortunio del portiere che ci ha aiutato giustamente però secondo me è molto meritato perché stavamo giocando bene c'è stato il 2-0 poi la partita si è un po' incattivita però è stata portata a termine nel migliore dei modi abbiamo lottato cosa che noi di solito non facciamo perché soffriamo la fisicità degli avversari quando capitano le squadre fisiche mentre ieri abbiamo diciamo sotto qualche certi aspetti cacciato gli attributi e abbiamo portato a termine una grande vittoria sotto l'aspetto caratteriale e anche secondo me sotto l'aspetto tecnico specialmente nel secondo tempo ben giocata